Secondo te qual è il periodo più giusto in cui la donna in gravidanza deve rivolgersi all'osteopata? Nel primo trimestre? Allora, il primo trimestre è tendenzialmente in parte un po' sconsigliato proprio perché c'è un cambiamento da un punto di vista ormonale ma molto meno fisico. Dopo il primo trimestre la donna inizia tecnicamente a cambiare conformazione, la colonna si apre, tutte le fasce lombari iniziano ad aprirsi, la cervicale inizia a tirare. Diciamo che nel primo trimestre l'unico aiuto valido sarebbe in caso di cefalee e problemi di origine cervicale.